ciao a tutti ciao ragazzi siamo un po tra dieci giorni e qui si sta lavorando abbastanza pesantemente siamo felici di farlo per questi colori per questa maglia e abbiamo saputo che la campagna abbonamenti sta andando molto bene e questo ci rende ancora più felici e ci potrebbe far lavorare ancora meglio se comunque acceleriamo ancora un po questi abbonamenti perché ci può fare solo piacere avere più gente allo stadio comunque ci vediamo stasera per risentirci su facebook e rispondere anche alle vostre domande ciao a tutti